L'abbiamo vista forse, ma non salutata, vicepresidente del Senato, con un sorriso che sfoggia sempre, ma nelle grandi occasioni come questa evidentemente siete tra i vincitori. Il sorriso lo sfoggio sempre, già ha ragione, oggi particolarmente. Intanto voglio iniziare dando a lei la mia solidarietà, voglio farlo pubblicamente per quello che è successo la settimana scorsa. Inizio dalla fine, poi volevo fare anche una considerazione ovviamente su Forza Italia se mi è concessa. Diciamo che i sedicenti meteorologi che dicevano che stava cambiando il vento hanno sbagliato tutte le previsioni, il vento non è cambiato e quindi per fortuna l'Abruzzo ha potuto scegliere di confermare Marsiglio perché è importantissimo, come sappiamo, dare continuità ad un'amministrazione, peraltro in Abruzzo non era mai capitato. In università ci insegnano che le elezioni regionali sono elezioni di secondo livello e così bisogna trattarle. Adesso dirò magari una cosa controcorrente ma la penso ancora così, cioè smettiamola di utilizzare le elezioni regionali quando ci fa comodo, quando ci fa comodo è un voto contro il governo, quando non ci fa comodo allora il vento sta cambiando. Io penso che come in Sardegna in Abruzzo sia stato premiato, a differenza dalla Sardegna in questo senso, sia stato premiato il candidato, cioè il territorio, siccome le regionali sono comunque elezioni che l'elettore sente più vicino, come per esempio anche le amministrative, hanno scelto di riconfermare il buon governo. Crespi dice che in realtà sono elezioni politicissime, però voglio sentire poi dopo anche la Morani. Secondo me il territorio fa la differenza, l'abbiamo visto in Sardegna, l'abbiamo visto in Sardegna perché i voti di lista appunto erano di molto superiore a quelli del centro-sinistra, ma il candidato evidentemente non aveva convinto, non aveva convinto neanche nella sua città e quindi il territorio fa la differenza nelle amministrative come nelle regionali. Detto questo penso che bisogna appunto smetterla di trattare quando ci fa comodo le regioni come l'Oaio, l'Oaio non esiste se non in America, però ha ragione Crespi quando dice che sono voti di Berlusconi, io la penso esattamente come lui. Questo non per togliere ovviamente merito a noi classe dirigente che abbiamo avuto la sensibilità, il coraggio se vogliamo, anche un pizzico di follia di andare avanti senza il nostro leader, ma è l'eredità che ci ha lasciato lui questa voglia di ritornare a votare il centro-sinistra. Va bene, questo lo riprendiamo tra un minuto. Peraltro in una situazione, rispetto alle parole che ha detto Mariolina Sattanino prima, non è che non c'era la volontà, non c'era l'entusiasmo nell'ultimo periodo di Berlusconi, credo che sia molto ingiusto, era una questione di vasi comunicanti differenti all'interno del centro-destra. Probabilmente è anche un'altra stagione politica, cioè il Berlusconi, Morani, del 90... Non abbiamo mai avuto, finisco il concetto, Berlusconi non ha avuto negli ultimi 6-7 anni la prateria che abbiamo oggi noi in Forza Italia, che va dalla Meloni alla Schlein, con una Lega che sta flettendo, ma soprattutto con un centro moderato che non è rappresentato se non da noi. Quindi è ovvio che gli elettori in questo momento, che non vogliono più estremismi, che non vogliono, sono tornati alla ricetta di Berlusconi, con i voti di Berlusconi, perché questa è la sua creatura. Non è che uno pensa di votare questa creatura che è diversa da quella che ha fatto nascere e che ha creato lui. Ma chiaramente il fondatore è sempre il fondatore. È un fondatore talmente grande che noi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare questo spazio e abbiamo continuato nel solco da lì dove ci sono lasciati. Aspetti un attimo, Lozullio, voglio sentire Morani. C'è una polemica. Mi sembra un attimo, perché abbiamo molto tempo ancora e voglio sentire la Morani che ancora non ha parlato. E mi segnalano un Marsilio, un po' polemico.